Buon pomeriggio amici! Beh, la notizia era nell'aria e chi segue i miei social sa come ieri sera abbia effettuato un primo aggiornamento circa le condizioni di Aaron Ramsey che oggi sono sfociate poi in vero e proprio bollettino medico perché il galese questa mattina si è sottoposto ai classici test di rito alge medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo rettofemorale della coscia destra. Ramsey verrà rivalutato tra altri dieci giorni ma diciamo che la sensazione è che sicuramente lo rivedremo dopo la pausa segreto di Pulcinella e calendario Lamano ma la sensazione è che si possa andare davvero verso un mesetto di stop. Da qui l'interrogativo del mio titolo riguardo al video ovvero quanto affidamento si può fare su questo calciatore? Poco! La risposta è netta e inequivocabile perché sì, stiamo parlando di un calciatore con caratteristiche sopra la media perché è un centrocampista più che un centrocampista secondo me di livello assoluto, di livello tattico e anche tecnico. Il ragazzo c'è, le qualità non mancano e non è un caso ad esempio che Andrea Pirlo si sia infatuato di lui rapidamente facendolo diventare in queste prime battute stagionali un perno progettuale della Juve attuale e di quella che verrà. Il problema qual è? È che Ramsey, stiamo a vedere lo storico, ha un feeling particolare con l'infermeria già palisato nella sua esperienza precedente con l'Arsenal. E appartiene Ramsey a quella serie di calciatori che poi ti vanno a condizionare in negativo inevitabilmente la stagione. L'anno scorso la Juventus nella passata stagione ha toccato vette inesplorabili perché ha avuto tra le sue fila Douglas Costa, Chiedira, De Sciglio, lo stesso Ramsey che se tu li sommi poi vanno davvero a intaccare gli equilibri in termini di affidabilità. Ed è uno di quei motivi questo che mi ha portato a pensare che l'ultima sessione del mercato della Juventus sia stata da questo punto di vista soddisfacente perché la Juve è andata su giocatori integri, giocatori giovani e giocatori che possano garantire comunque una buona continuità di rendimento a prescindere poi dalle qualità che vengono evidenziate da quello che io definisco sempre il verbeto sovrano ovvero il rettangolo di gioco. Quindi Ramsey sì è un giocatore forte ma è sì un giocatore che non ti fa tre partite di fila, lui non trova la continuità, tu Juve non la trovi sul suo conto nel senso che poi Ramsey se c'è o non c'è spostano un poco anche le strategie tecnico-tattiche perché in questo momento Pirlo ha utilizzato Ramsey come un giocatore importantissimo tra le linee, come un giocatore di fascia poi nel 4-4-2 canonico in chiave difensiva quindi Ramsey in questa rosa rappresenta un unicum, poi ci sono altri calcettori che sicuramente lo possono sostituire ad altezza come Kulusevski, lo stesso Chiesa se vogliamo anche Di Bala quando la Juve avrà un po' più di equilibrio per tentare un tridente offensivo a geometria variabile però Ramsey fa un tipo di lavoro che gli altri non hanno nelle loro caratteristiche, nelle tecniche è chiaro che la Juve poi su Ramsey dovrà fare anche un ragionamento secondo me ad ampio radio ci sta dopo una stagione balbettante ma soprattutto dal punto di vista degli infortuni concedere una seconda chance se poi anche questa seconda chance dovesse viaggiare all'insegna dei problemi fisici e dei dubbi beh, al termine appunto dell'annata corrente credo che una valutazione sul mercato avrebbe effettuata quasi spontanea quindi, problema alla coscia destra per Ramsey, tra dieci giorni verrà rivalutato salta la Lazio, salterà poi anche i Cagliari, Fernvaroš a partita di ritorno allo stadio partite importanti perché poi in questo momento la Juventus è ancora un cantiere aperto sta facendo risultati contro avversari, gli ultimi sicuramente non probanti però serve ora mettere Fionio in cascina per non perdere troppi punti dalla vetta in campionato e soprattutto poi per passare il turno in Champions League a un momento credo che qui sia molto complicato che la Juventus possa impensierire il Barcellona in virtù poi dello scontro diretto vinto meritatamente nel Blugrana in casa dei bianconeri e niente ragazzi, io resto un pochettino perplesso circa Ramsey perché quando sembra che trovi la tanto agognata continuità di rendimento puntualmente c'è lo stop, chiaro che non si può fare una colpa perché Ramsey è il primo a voler cambiare questo trend però purtroppo è un giocatore fragile come lo era Douglas Costa, come lo è Chedira come lo sono anche altri calciatori tra cui Decidio diciamo che da questo punto di vista la Juventus ha fatto delle scelte molto nette e forti in estate magari anche togliendosi volontariamente della qualità perché Chiesa non sarà mai un giocatore di livello come Douglas Costa ma sarà sicuramente un giocatore che giocherà molte più partite del brasiliano e quindi anche Ramsey, tanto bello da vedere è un giocatore stilisticamente eccesso ma poi in termini di utilità in termini di utilità progettuale e beh ragazzi, i dubbi non sono grossi ma sono grossissimi fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto e se siete tifosi della Juventus iscrivetevi al mio canale YouTube e mettetevi al canale video un abbraccio